Come ti senti dopo questo tuo esordio in sedi? Il primo punto post-covid, secondo te può dare quella scossa alla squadra? Invece abbiamo portato a casa un punto, quindi bisogna ripartire da qui, da capitano ma anche per tutta la squadra, se siamo questi ci salviamo. Un dietro di grande carattere tuo, nonostante il dietro dopo il lunghissimo stop, sei consapevole che questo elemento da capitano quale sei andrà trasmesso all'intero spogliatoio anche in caso di salvezza da giocarsi pre-out, oltre che negli ultimi impegni della regola del sito? Ma è chiaro, perché anche come ha detto il nostro direttore sportivo sputeremo sangue, quindi se dovessimo andare ai play-out ci salveremo attraverso i play-out, ma sono convinto che, come ho detto anche prima, se giochiamo così da squadra come lo siamo e come abbiamo dimostrato non ce ne sarà più a nessuno e ci salveremo. Grazie ad una solita esperienza, la Edillima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edillima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edillima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni, al servizio dell'agente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Ogni festa ha il suo sorprendente finale, Pirotecnica Nazionale, l'unica, Pirotecnica Nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino, Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza, Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Cura i migliori spettacoli. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stato.